Ci stanno tantissime persone per le strade che non riescono nemmeno a garantirsi un tetto sotto il quale rifugiarsi quando piove, ci sono anche tempeste, addirittura del San Napoli. Per cui cosa si sta facendo per queste persone? Su questo noi siamo molto sensibili perché non ci piace l'idea che il senza fissa dimora sia un fastidio. Si tratta di persone che sono meno fortunate di altri che hanno bisogno di essere aiutate. Quindi sicuramente non possono stare in luoghi ovviamente in cui poi si subisce anche un danno per la città come vicino a un museo, per esempio alla Galleria Principe Umberto. Qui l'obiettivo non è spostarli da una parte all'altra come se fossero un rifiuto umano. Sono persone a cui noi tutti dobbiamo cercare di dare maggiore dignità. Quindi che stiamo cercando di fare? Tra mille difficoltà aumentare i luoghi di accoglienza. Quindi tetti per senza fissa dimora. Nella consapevolezza che ci sono anche una fetta di cittadini della nostra città che vogliono vivere per strada. Allora loro bisogna prestare assistenza attraverso le politiche sociali tutte, però anche facendo comprendere che in alcuni luoghi non si può restare a vivere come se fosse la propria abitazione. Signor Sindaco, lei non crede che una grande tifoseria come quella napoletana abbia diritto ad uno stadio più decente che possa essere anche un grande bigliettino da visita nell'Europa che conta? Per lo stadio sono assolutamente d'accordo, tanto è vero che è in corso un lavoro complicato, complesso con la società Calcio Napoli per realizzare questo obiettivo. Ovviamente uno stadio nuovo non può essere fatto con soldi pubblici perché non ce ne sono. In questo momento storico anche se ce ne fossero i soldi pubblici devono essere destinati per altre cose. Però invece sono privati che vogliono investire e quindi il nostro obiettivo è quello di creare le condizioni giuridiche per stimolare investimenti privati, a cominciare dal Presidente Laurentiis, a tutti gli altri che lo volessero fare, per realizzare uno stadio all'altezza della città di Napoli e della nostra società. Quindi noi abbiamo anche formalizzato una proposta al Presidente, alla società Calcio Napoli. Noi siamo in prima linea, siamo addirittura avanti rispetto agli imprenditori privati da questo punto di vista. Speriamo che le nostre idee, le nostre proposte vengano accolte, trovino interesse e noi quindi siamo pronti a fare la nostra parte. Cosa stanno facendo per rafforzare i mezzi pubblici per noi studenti che arriviamo da lontano? Purtroppo la situazione complessiva che anche qui abbiamo ereditato del trasporto pubblico è molto pesante, perché l'azienda del trasporto su gomma, la NM, era quasi fallita, coperta anche questa di debiti. Quindi noi abbiamo innanzitutto potuto impedire che fallisse. Da tre società partecipate ne abbiamo creato un'unica holding. Oggi abbiamo quasi 400 autobus su strada. Purtroppo non ne possiamo comprare di nuovi, devono arrivare tempi migliori, perché economicamente oggi non possiamo, però abbiamo chiesto finanziamenti europei per i bus elettrici che adesso cominceranno a venire. E quello che possiamo fare, aprendo diverse stazioni della metropolitana, e strategiche è stata Piazza Garibaldi, è quella di spostare un numero di autobus nei quartieri non interessati dal trasporto metropolitano e funicolare, quindi distribuire meglio i mezzi che abbiamo. Su questo si sta lavorando, così come è impegno mio forte, quello di ottenere un accordo sindacale tra l'azienda del trasporto e i lavoratori per poter garantire un trasporto pubblico anche nelle ore serali, in particolare il fine settimana, un'attenzione particolare al trasporto pubblico su gomma per i luoghi in cui ci sono scuole, quindi per i nostri ragazzi che vogliono utilizzare i mezzi pubblici. L'assessorato alle politiche giovanili sta lavorando anche per incentivi da questo punto di vista nei confronti degli studenti, insomma cercheremo di fare tutto quello che si può fare tenendo presente che i mezzi non sono quelli che vorremmo e la capacità di investimento non l'abbiamo, cioè quella di poter comprare in questo momento autovetture diciamo nuove, però sono convinto che le azioni messe in campo anche se lentamente faranno registrare sempre di più un miglioramento. Anche adesso rispetto a qualche mese fa la situazione è migliorata, basti pensare che con l'apertura di Piazza Garibaldi abbiamo avuto un più 400% di utenza, è diminuito il traffico in alcune arterie, in particolare sul Corso Umberto, ma anche altre, quindi andremo sempre di più in questa direzione. Grazie. 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 Grazie.